E' stato ritrovato dalla polizia in via Ricasoli, Ugo Guida, 84 anni battipagliese che la famiglia aveva dato per disperso. E' stata la figlia Daniela a segnalare la sua scomparsa, pubblicando ieri una locandina segnalettica con foto e dettagli. Rientrata a casa, la donna non ha trovato ad attenderla il papà, che per ore non è più rientrato. La notizia del ritrovamento è di poche ore fa. L'uomo è visibilmente disidratato, ma le sue condizioni per fortuna non sono gravi.